Ciao, è ora che faccio una panoramica generale di quello che esegno in fuori in modo tale che ti posso darmi conferma che sia tutto quanto a posto e che ti possa andare bene insomma. Qua c'è la batteria con le due spinette che va con il cavetto grigio dentro alla scatoletta dove si monta un led che indica gli scatti oppure il tempo del sincrono e i tre tasti modo meno più il suo bel display. Qua c'è i connettori di cui questo quasi la spinetta che va dopo il sincrono quindi dall'altra parte ti ho messo l'altra spinetta femmina. Qua c'è il connettore rca che va alla fotocamera, adesso devo montare la mia per fare la prova che sia tutto quanto a posto e dopo il connettore del motore dell'asse. Vediamo un attimo il software. Direzione verso Vicenza oppure verso Montebello, deciditi, facciamo verso Montebello. Menu, manuale, facciamo una prova così va a Vicenza e così va a Montebello. Perfetto. Muovete per, adesso questo è un test, fermo per tre secondi sennò ti puoi aumentare e diminuire come che ti vuoi. Fermo per, va bene, due secondi. Stessa storia ti aumenti e ti diminuisci come che ti vuoi. Ritardo scatto uno e otto, ti puoi anche qua diminuire e aumentare. Ovviamente se ti vai in più ti fa oh calia mario meno zero due. Questo perché? Perché se ti hai una pausa dei due secondi e ti ritardi lo scatto di un secondo e otto, abbiato mi assi a me zero due per fare la foto. Quindi automaticamente ti dico già vara che uno e otto è il massimo. Se ti aumenti il tempo automaticamente questo valore qua si aggiorna sempre a meno zero due rispetto al tempo di pausa massimo. Quindi fa tutto in automatico. Oh calia mario! Ritardo scatto. Più butto lo scatto ok fammi la foto oppure sennò no mi arrangiami. Ok fammi la foto. Alla fine ho fatto apposta perché scatta. Numero di foto oppure comunque numero dei cicli di lavoro indifferentemente che ti fassi la foto o no. Dieci e dopo me fermo. Come sai che funziona il ciclo di lavoro? Parte scattando quindi parte col ritardo scatto e lo scatto. Finisce tutta la pausa e dopo si muove il motore. Questo perché? Perché sentitemi da un punto di partenza. Non è utile che parto subito a muovere il motore e fare la prima foto già spostandomi del tempo di spostamento. Cioè parto con lo scatto di quella posizione lì. Questa è una questione di logica insomma. Programma 1. Do lo start. Eccolo qua. Guarda lo start. Parte col scatto. Programma 1. Drionare da 4 a 5. Qual tempo va su. Nel frattempo mi sposto. Vedi il programma è il prossimo start. Quindi tra quanto è parte? 3 2 1 parte. Se muove per 3 2 1 0. Perché se muove. Il numero di foto è il conto delle foto. E qua è il valore della batteria. Vediamo da i due secondi di pause. Quindi 2 1 0. Nel frattempo nell'1 e 8 è da scattare. E va avanti. Finisce tutto quanto le foto. Qua funziona tutto quanto. Non c'è nessun errore da tutto quanto a posto. Finisce le foto. Non c'è altri menu. Se ti signo in automatico. Desvelo questi due menu qua. Fa l'ultima. Scatta. Go finito in 47 secondi. Ecco. E' un spettacolo. L'assetto è sempre qua. Scusa il casino perché qua non devo fare dei lavori da paura. Comunque sono contento perché l'ho fatto come se fosse per me. E ho messo veramente a passione perché mi ha ancora fatto bene. Se c'è qualcosa altro che ti vuoi aggiungere qua e là basta che ti mi dici. E per il discorso sincrono ovviamente ti attacchi la spinetta. Che altro? Comanda. Ti non ti decidi più niente. A parte quel 0,02 secondi extra che ti dà l'impulso. Qua ti vedi l'impulso che ti arriva dall'altro aggeggio che ti dici ti ha il motore e cammina un po' di più. Insomma ecco. E ovviamente ti puoi aumentare o diminuire come che ti vuoi. Qualsiasi parametro che ti devi modificare automaticamente si salva. Quindi se ti ti spegni o se spegni accidentalmente o eh ti dai sempre gli ultimi parametri perché ogni volta che ti cambia un parametro viene salvato. Bene penso di aver finito. Mi chiudo le ultime vitine e se te mi dai l'ok definitivo imballo tutto quanto e te lo porto so. E niente son contento. Ho fatto veramente un bel lavoro. Mi era piaciuto. Ciao.